Il rapporto annuale dell'Istat 2021 naturalmente deve confrontarsi con la crisi, con la crisi pandemica, con i suoi effetti sull'economia, sulle società e anche demografici. In termini economici cerchiamo naturalmente di dare un quadro il più aggiornato possibile e in particolare mettiamo in evidenza i segnali di ripresa che sono emersi negli ultimi mesi e che si stanno rafforzando. Dal punto di vista sociale ci sono molte analisi sui consumi, su ciò che è accaduto durante la crisi ma anche su aspetti strutturali dei divari di istruzione piuttosto che sul mercato del lavoro. Riguardo alla parte demografica naturalmente c'è tutta una ampia analisi su aspetti di mortalità, di come la crisi ha colpito le persone e il sistema sanitario. Ci sono poi anche delle analisi relative ai matrimoni che sono molto caduti nel 2020 e alla natalità fino ai mesi più recenti con la caduta dovuti agli effetti della crisi e poi i primissimi segni di recupero.